ciao ragazzi sono Riccardo bentornati nel mio canale YouTube anche oggi vi parlerò di un incisore laser ma questo è molto particolare diverso da tutti quelli che vi ho recensito finora si tratta del Teotris TS3 con un modulo laser da 10 watt di potenza che ci permette di tagliare il legno anche 16 mm e mezzo ma di tagliare anche qualcosa di semplice quindi per esempio cartoncino eccetera quindi molto modulabile nell'utilizzo a un sistema filtrante interno è possibile utilizzare anche il tubo perché c'è un accessorio che ci permette di collegarlo e viene dato in dotazione sia il tubo dell'accessorio quindi possiamo espellere i fumi portarlo fuori dall'ambiente ma all'interno contiene anche il sistema che ci permette di utilizzare il lasser rotante per incidere le superfici cilindriche ha anche un display touch che ci permette di comandarlo direttamente da questo pannellino in alto lo possiedo dai primi di maggio ho fatto diverse prove non ho mai avuto un problema riesce a lavorare molto bene ed è molto modulabile come ho detto passando da spessore elevati di legno al taglio di spessori sottili come il cartoncino la pelle oppure il multistrato da 3 mm ho inciso anche sul metallo utilizzando lasser rotante insomma ragazzi funziona bene è bello da vedere robusto ma ha un prezzo che non è indifferente questo è da tenere in considerazione perché costa circa 850 euro anche se possibile decidere di acquistarlo con uno oppure con l'altro accessorio quindi diminuire eventualmente il prezzo perché lasser rotante oppure studio l'aspirazione insomma si possono acquistare digitale momento all'acquisto se averlo più o meno completo comunque sia il prezzo rimane elevato è importante lo vedo più indicato per le attività commerciali oppure per gli hobbisti esigenti che vogliono un prodotto potente che funzioni bene sicuro da utilizzare perché questa plastica dovrebbe filtrare i raggi dannosi del laser addirittura nella loro pubblicità si vede un bambino che guarda da vicino l'incisione mentre l'incisore è chiuso perché questo dovrebbe filtrare io comunque utilizzo sempre gli occhiali protettivi perché è meglio adesso però passiamo direttamente a vedere quello che ho ottenuto quindi i tagli le incisioni eccetera guarderemo la macchina nei vari dettagli vi spiegherò il funzionamento e poi trarremo assieme le conclusioni ma vientici un poche ovviamente visto il prezzo non ci sarebbe ovviamente alternativa funziona bene e per me è un prodotto valido quindi guardiamolo e vediamo appunto come fatto nei dettagli e allora come sempre guardiamo prima di tutto la struttura con questa colorazione blu e arancione ma è possibile acquistarlo anche con la struttura in colore nero con questo plexiglass di colore verde sulla parte alta troviamo il display a destra troviamo il tasso di accensione è una spia con un led ancora a seguire troviamo l'ingresso per la micro sd il collegamento usb e questo invece il cavo di alimentazione viene alimentato da questo alimentatore 24 volt 4 ampere all'interno della confezione oltre al manuale di istruzioni qualche fascetta e poco altro troveremo anche il cavo che si collega all'alimentatore io ho utilizzato uno che già possedevo gli occhiali protettivi anche se io non mi affido mai a questo tipo di occhialini anzi vi lascerò il link degli occhiali di buona qualità questo è il pennino che ci permette di leggere scrivere sulla micro sd questo è l'accessorio che abbiamo montato sulla parte posteriore al quale poi si collega il tubo che viene dato pure in dotazione ma passiamo alla struttura vera e propria per ora guardiamo la parte anteriore ed interna poi guarderemo anche la parte posteriore allora si apre semplicemente in questo modo e all'interno troviamo una griglia di taglio che è possibile anche rimuovere poi il modulo laser già integrato quindi non c'è nulla da montare e smontare questa macchina arriva direttamente come la state vedendo collegate la spina e direttamente la utilizzate anzi ci sono da tagliare due o tre fascette che mantengono gli assi ben fissi all'interno troviamo anche dei sensori di fine corsa e la struttura interna è tutta in alluminio questa invece è in ferro tutte le cinghie anche se non sono visibili comunque sono state curate per quanto riguarda il posizionamento e sono all'interno di queste guide a carro armato il modulo laser da 10 watt è a fuoco fisso privo di air assist questo è il sistema che ci permette di alzare ed abbassare il modulo laser per regolare la messa a fuoco anche questa è particolare perché ci permette tramite questo cilindretto in realtà sono tanti dischetti uno sopra l'altro tutti sovrapposti ci danno possibilità di mettere a fuoco correttamente ed è possibile in base allo spessore del legno decidere di abbassare di poco il modulo laser aggiungendo oppure diminuendo alcuni di questi elementi ma io ho deciso di metterli tutti assieme con del nastro adesivo in modo da avere un cilindro che abbia una misura fissa eventualmente mi regola d'occhio e va messo ovviamente sul pezzo da tagliare poi alzando ed abbassando faremo in modo che il cilindro vada a toccare esattamente in questa parte mentre appoggiato sul pezzo da tagliare quello che vedete alle spalle ormai un po ingiallito è il sistema filtrante all'interno seppure del carbone attivo diversi sistemi che ci permettono di purificare per quanto possibile tutti i fumi tossici che si sprigionano durante l'incisione effettivamente un paio di volte mi è successo che esagerando un minimo di fumo fuoriesca al ve lo farò vedere pure dalle inquadrature però effettivamente è successo raramente è comunque sempre meglio di non avere nulla che ci aiuti e che filtri i fumi l'area di incisione effettivamente non è fra le più grandi perché 20 cm per quanto riguarda l'asse y 30 cm per quanto riguarda l'asse x anche se effettivamente è possibile poggiare dei pezzi più grandi sulla grida di taglio ma comunque l'area colpita dall'incisore laser sarà di 20 x 30 cm adesso prima di passare alle altre caratteristiche di questa macchina voglio farvi vedere quello che ho ottenuto quindi come vi dico sempre questa tabella è molto importante perché ci permette di capire quali sono i parametri corretti per poter utilizzare bene l'incisore laser e soprattutto ci dimostra se eventualmente ci sono dei difetti in questo caso non ho riscontrato alcun difetto ma ho capito quali sono i parametri per poterlo utilizzare correttamente quindi guardiamo per esempio le prestazioni ad una velocità molto elevata 450 mm al minuto per eseguire dei tagli con un solo passaggio al 60 per cento ma neanche con due passaggi è riuscito ad eseguire dei tagli con tre passaggi già riuscito ad eseguirli senza problemi e da 70 per cento in poi era quasi riuscito perché si vede che il taglio è stato quasi eseguito ovviamente con tre passaggi riuscito a tagliare con tutte le potenze e io sono dell'opinione come vi ho sempre detto che è meglio utilizzare tre passaggi al 60 per cento anziché un solo passaggio al 100 per cento si stressa di meno il modulo laser e otterremo meno bruciature per quanto riguarda le scritte sono venute molto bene lo stesso per quanto riguarda le foto sia quelle a 5.000 mm al minuto 90 per cento di potenza scusatemi ma non ho corretto il testo perché questa tabella la modifica ogni volta che utilizzo un incisore laser questa di sotto invece è stata incisa a 5.000 mm al minuto a 70 per cento di potenza e la qualità della foto mi piace tantissimo guardate i dettagli degli occhiali e anche del drone si vedono benissimo pure le eliche le lucine led nella parte anteriore ragazzi si vede tutto molto bene anche la barba il contrasto tra lo stacco del mare l'inizio del cielo insomma davvero stampata molto bene ma ho commesso comunque un errore perché come vedete ci sono anche tante bruciature e questo è dovuto al fatto che i pezzi vanno levigati io ho levigato la parte posteriore che effettivamente molto liscia e invece poi ho inciso su quest'altra parte che come vedete è ruvida quindi è colpa mia perché quando non è levigata per bene i fumi sono molto di più per quanto riguarda le scritte anche in questo caso delle scritte nettissime dal 50 al 100 per cento abbiamo un risultato eccezionale lo stesso per quanto riguarda i riempimenti già 60 per cento viene molto scuro almeno sul legno e quindi un riempimento molto corposo il mio logo invece è stato inciso a 4.500 mm al minuto 30 per cento di potenza in questo caso è esagerato con la linea finale che fa da contorno al riempimento comunque sia il risultato mi piace tantissimo per quanto riguarda invece il taglio dei dettagli piccoli a 450 mm al minuto a cento per cento di potenza non è riuscito a tagliare però effettivamente 450 mm al minuto un solo passaggio non è riuscito a tagliare neanche in questo caso quindi un incisore laser che taglia bene ma un solo passaggio 450 mm al minuto effettivamente è troppo veloce e ovviamente anche lo stesso pezzo poi è stato separato dall'intero pannello tagliandolo con una potenza del 90 per cento con due passaggi quindi una volta capiti quali sono i parametri da impostare per ottenere dei buoni risultati ho fatto diverse prove questo per esempio è il cartoncino anche questo tagliato con una velocità molto elevata quindi mille mm al minuto con una potenza del 70 per cento riuscite a tagliare in un batter d'occhio si tratta di una semplice stellina ma ho scelto di utilizzare questo tipo di disegno perché essendo geometrico a diversi vertici e in questo caso l'incisore laser perde l'istante in più quindi nemmeno in questo caso ci sono segni di bruciatura ottimo risultato ho tagliato pure in questo caso il form si è tagliato di netto non ho lasciato bruciatura e non si è fuso quindi un taglio ottimo e questo va bene per realizzare delle sagomature per trasportare degli oggetti che potrebbero rompersi con gli urti poi ho tagliato anche la pelle questa si è tagliata immediatamente ragazzi si è separata senza lasciare segni di bruciatura nella parte posteriore e ho deciso di incidere il logo della diutrice perché effettivamente a tutte queste linee vicine tra l'altro ho inciso anche questa scritta una scritta che anche il contorno ed è venuta pure benissimo quindi buon risultato anche su questo tipo di materiale poi una volta visto che riusciva a tagliare i materiali semplici quindi come può essere form la pelle cartoncino insomma molti strato da 3 mm ho deciso di alzare un pochettino l'asticella e provare con 10 mm ho provato con 300 mm al minuto quindi una velocità elevata al 95 per cento di potenza ed è riuscito a tagliare senza lasciare segni di bruciatura sul pezzo ragazzi guardate che bel risultato un taglio nettissimo non ha bruciato né sulla parte bassa e neanche sulla parte alta effettivamente io immaginavo che non avendo era assist come ha bruciato per esempio sul pezzo da 3 mm verbe bruciato anche su questo invece con mio stupore un taglio eccezionale poi sono passato a questo punto con la prova dei 16 mm e mezzo ho provato prima con una velocità elevatissima quindi con 400 mm al minuto 95 per cento di potenza però in questo caso ho dovuto fare 15 passaggi ma 15 passaggi per chi non è un intenditore di incisori laser potrebbero sembrare tantissimi quindi ho dimezzato la velocità 200 mm al minuto e ho ottenuto lo stesso tipo di taglio con otto passaggi e ha tagliato questo pezzo proveniente da un bancale senza alcun problema anche in questo caso segni di bruciatura sono davvero minimi quindi questo punto non rimaneva che fare la prova sul metallo utilizzando l'accessorio che ci permette di incidere sulle superfici cilindriche come vedete è venuto nettissimo sia per quanto riguarda la linea che per quanto riguarda i riempimenti e questo lo inciso a 1000 mm al minuto con una potenza del 70 per cento ragazzi il risultato eccezionale adesso quindi continuiamo a guardare la macchina guardiamo la parte inferiore che ci permette di accedere ai rulli rotanti e guardiamo anche la parte posteriore ho cambiato inquadratura ho dovuto spegnere pure le luci perché altrimenti si rifletteva tutto su questo display accennerò l'incisore laser vi farò vedere l'homing che da questa parte nel 90 per cento degli incisori laser l'homing è in questo angolo quindi lo accendo si accende il display compare il logo della q3 la scritta ts3 anzi il logo della tutris lo abbiamo qua sopra e abbiamo la possibilità di utilizzare questo display che è touch anche per controllare sia l'incisione che eventualmente i movimenti della macchina quindi mandiamolo in home dopodiché chiudo questo coperchio perché il rumore del sistema filtrante si sente e dà fastidio ok adesso si sente molto meno il rumore della ventola quindi mi chiede se è andato tutto bene noi gli diciamo di sì e adesso possiamo muovere anche gli assi quindi come vedete si va muovendo l'asse x oppure possiamo muovere anche l'asse y come vedete adesso si sta muovendo direttamente tutto il carrello che trasporta il modulo laser però c'è la possibilità tramite il selettore nella parte posteriore di far muovere i rulli perché scegliendo ruotando questo selettore diremmo alla macchina che stiamo utilizzando i rulli sulla parte bassa e quindi anziché far muovere in avanti e indietro questo carrello lo stesso rimarrà fermo e al suo posto si muoveranno i rulli appunto che faranno ruotare i pezzi cilindrici e sempre tramite questo piccolo display abbiamo la possibilità anche di agire su alcune regolazioni per quanto riguarda la potenza quindi 550 oppure 100 per cento tramite queste cona tools abbiamo la possibilità di vedere quale firmware troviamo nella macchina e la possibilità di accedere al wifi però effettivamente non l'ho utilizzato vi ho già fatto vedere come funziona il sistema wifi con gli incisori quindi eventualmente vi lascerò il link per vedere gli altri video questo invece è il comando che ci permette in presenza di un file di sceglierlo poi di spostare la macchina e di decidere eventualmente di incidere direttamente utilizzando il touchscreen quindi una macchina versatile perché ci permette di utilizzare il piano per poter fare le classiche incisioni oppure tagli la possibilità di utilizzare i rulli rotanti possiamo lavorarci sfruttando questo pannello sfruttando l'applicazione dal telefonino sfruttando il computer tramite wifi oppure come siamo abituati possiamo utilizzare il computer utilizzando light burn oppure laser grbl collegandola tramite il cavo usb nella parte posteriore a sinistra troviamo quindi il selettore di cui vi ho parlato e questo invece è l'alloggiamento per poter inserire quell'adattatore vi ho fatto vedere poco fa per utilizzare il tubo e quindi espellere tutti i fumi fuori dall'ambiente ma ora continuiamo a parlare della macchina guardando alcune caratteristiche quindi il suo peso visto che in metallo e visto che effettivamente è robusta è di 17 chili e mezzo e le dimensioni complessive sono di 57 cm per 43 centimetri di profondità per 27 cm di altezza per quanto riguarda invece il modulo laser in questo caso abbiamo un modulo da 10 watt ma è possibile acquistarlo anche da 5 watt e la precisione per quanto riguarda i movimenti degli assi sia l'asse x che l'asse y è di 0,1 x 0,1 mm il modulo laser da 5 watt ovviamente avrà prestazioni differenti quindi questo è molto più potente in realtà però questo all'interno ha due moduli laser da 5 watt che combinano tramite un sistema di specchi i loro fasci e quindi producono un unico fascio laser che hanno lunghezza focale molto elevata che ci permette come avete visto di tagliare anche 16 mm e mezzo senza problemi e nella parte frontale presente questa plastica che è leggermente rivolta verso dietro che quindi convoglia un pochettino di aria verso il punto di incisione non è una irasis però aiuta a raffreddare un pochettino il punto in cui sta incidendo questa copertura in plastica arancione dovrebbe almeno per quello che dichiara la casa riuscire a filtrare raggi dannosi del laser io vi consiglio comunque sempre di utilizzare gli occhiali o perlomeno di fare attenzione non aprire mai questo coperchio mentre sta lavorando comunque all'interno troviamo anche questo materiale morbido che aiuta a far circolare l'aria in ingresso e che evita che fumi fuoriescano quindi una sorta di guarnizione che tra l'altro rende un pochettino più insonorizzato come avete notato il rumore del sistema filtrante che effettivamente formato da ventole sommata alle ventole del modulo laser potrebbe risultare molto fastidioso durante il lavoro invece chiudendolo praticamente si attutisce di tantissimo e allora ragazzi quindi alla fine cosa dire di questo incisore laser è piccolo tanto quanto basta per consentirci di avere un'aria di incisione a 20 x 30 centimetri a questo box robusto in metallo questa parte che dovrebbe filtrare il sistema filtrante che elimina la maggior parte dei fumi ma soprattutto funziona bene basta semplicemente a collegare la presa e avviarlo dopodiché come avete visto riusciremo a ottenere degli ottimi risultati il prezzo effettivamente è elevato quindi come prodotto lo vedo più indicato per chi ha esigenze particolari oppure per attività commerciali comunque sia a mente resta a farvi sapere che il prodotto funziona bene e per me è valido vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione se riesco cercherò di farmi dare anche un codice di sconto non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo mi invita ad iscrivervi al mio canale mettere in piensa questo video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qui giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto